Una serie di incendi boschivi si sono sviluppati ieri sera in cinque zone diverse sull'altura di Orcofeglino, creando una situazione di alto rischio anche per alcune abitazioni che nella notte sono state fatte evacuare per precauzione dei vigili del fuoco. Durante la notte hanno lavorato incessantemente diverse squadre dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile. Le operazioni di soccorso sono proseguite anche oggi con il supporto dei tre Canada raggiunti da Genova e da Roma e di un elicottero del servizio regionale antincendi boschivi. L'assessore regionale Stefano Mai ha evidenziato come le operazioni di soccorso siano state rese ancora più difficili dai numerosi fronti di fuoco che si sono creati e dal territorio a tratti impervio nel quale si sono sviluppate le fiamme. Restano da accertare le cause all'origine della serie di incendi anche se l'ipotesi del gesto doloso resta come sempre quella più accreditata.